Non riuscirà a farle queste cose, sei d'accordo? Io vorrei fare tre proposte alla Meloni. Ma Fridman che rispondi prima? Rispondo così. Nell'ordine delle cose che dice anche Fridman. La prima cosa è che abbiamo un'agenda Draghi che è stata sostenuta dall'opposizione, che non ha portato la vittoria, ma ha un rapporto stretto fra il governo Draghi e il governo Meloni. Non so se la responsabilità morale e politica di Draghi possa essere invocata, ma io una proposta a Draghi di assumere il Ministro dell'Economia la farei. Ah, però. Nel senso che tu non puoi far cadere nella continuità di governo un'azione importante di credibilità internazionale. La seconda cosa, valuterei che oggi noi dipendiamo meno dalla Russia che dalla Norvegia, la quale ha la corona e non ha l'euro. È fuori dell'euro, ma è in un ambito economico europeo. E noi abbiamo però la Basilicata. Manderei, direi a Giorgia, vai in Basilicata a vedere se i nostri fondi petroliferi, che sono in Val d'Agri altrettanto ricchi di quelli norvegesi, ci possono consentire un margine di autonomia o anche di compensazione tra la vendita del petrolio e gli incentivi all'elettrico che usano in Norvegia. In Norvegia c'è il paradosso che loro vanno verso l'elettricità, ma vendono il petrolio. Noi abbiamo in Basilicata un fondo straordinario dell'economia autoctona che la destra ovviamente può coltivare. Tutte le nostre possibilità di usare giacimenti come quello vanno utilizzate. Quindi prima, seconda, terza. Quello è nel programma. La terza cosa è qualunque cosa accada delle bollette come dell'amico che si sta aspettando. non interrompere l'erogazione di elettricità. Come paga? Rimandi a pagare, l'hai fatto in tanti modi. Rimandare il pagamento è lecito, ma interrompere per un ristoratore, per un bar, per una casa, l'erogazione è una cosa intollerabile. Quindi una forma di moratoria temporale. Ma le criticità di Friedman dice no, ci sono cose che non potrebbero fare. Ma lui parlava di un povero economista, non sono un economista. Io dicevo, dal punto di vista politico, stabilire che... Io stavo l'altro giorno in un bellissimo luogo che è Caglio, ho chiesto cosa spendete, spendiamo il triplo di prima. Il problema è che se tu vuoi spendere di meno, non è che puoi dismettere o calare la richiesta di gas e di elettricità. Te la fanno pagare lo stesso. Devi procrastinare la bolletta. Non puoi impedire le azioni, l'attività, gli esercizi commerciali. Quindi è un'azione, diciamo, populistica in fondo, ma che vuol dire di rispetto del popolo e del lavoro del popolo. Un leader di destra, questo, può farlo. Poi chiediamo a Draghi se è disponibile ad assumere anche un ruolo... L'idea di Draghi... L'idea di Draghi...